Noi è il terzo anno che veniamo qui all'Arena BCC, è una compagnia di ragazzi giovani, non proprio tutti giovani, però la maggior parte sono giovani, 17-18 anni. La compagnia che portiamo in scena è Condominio Sirena. Di che cosa parla questa commedia? Praticamente è uno spaccato di vita di un condominio, dove la maggior parte di noi vive e sa come si vive, delle volte bene e delle volte male. C'è però un'anomalia in questo condominio, c'è una portineria che dalle nostre parti di solito non si usa. In questa portineria c'è una portinaia che è giovane ed è bella e essendo giovane e bella crea un po' di scompiglio nei giovani condomini e nelle moglie dei giovani condomini e da questo vengono fuori un sacco di storie. L'abbiamo già portata in scena il mese di maggio qui a Bellocchi perché noi siamo di Bellocchi, ha avuto un bel successo, la gente si è divertita e mi auguro che anche voi se ci venite a trovare vi divertirete.